L'ultimo addio stamani a Perugia, presso la cappella del Sodalizio San Martino, per uno degli ultimi testimoni diretti dell'Eccidio e dei 40 martiri di Gubbio, il professor Antonio Marionni, eugubino, ultranovantenne da tempo residente nel capoluogo, ritratto in queste immagini quando l'11 febbraio del 2019 partecipò alla presentazione del libro di Giacomo Marinelli Andreoli nel Segno dei Padri, che narrava proprio una vicenda legata all'Eccidio. Marionni se n'è andato domenica 11 aprile tra il cordoglio unanime della sua città natale, che con il sindaco Filippo Stirati oggi lo ricorda come persona di grande spessore culturale ed umano. Il suo nome resterà legato in maniera indelebile nella memoria a quanto accadde il 21 giugno del 1944, quando, giovane studente, alle 9 di mattina accompagnò il vescovo di allora, Monsignor Beniamino Baldi, presso il comando tedesco, insediato nell'albergo San Marco a Gubbio, per implorare la liberazione degli ostaggi, coloro che di lì al giorno seguente sarebbero poi stati fucilati per rappresaglia. Marionni conosceva bene la lingua tedesca e per questo fu assistente del vescovo in qualità di interprete, un colloquio drammatico riportato da diverse pubblicazioni, tra cui Beniamino Baldi, un vescovo tra due età di Monsignor Pietro Bottaccioli, e Il miele della vita dello stesso Marionni. Era stato questo giovane studente a tradurre in tedesco le suppliche del presule, ma io le dico, le assicuro, aveva implorato Monsignor Ubaldi, che sono tutti innocenti, sono giovani, padri di famiglie buone, senza colpa, li lasci liberi, signor capitano, prenda me come ostaggio, sono qui per questo, aveva detto il presule. A lui, a Marionni, però, il compito anche di tradurre dal tedesco il diniego alla clemenza, che si concretizzò poi all'alba del 22 giugno, nella fucilazione dei 40 civili rastrellati nelle case di città e di campagna. Il sindaco Stirati, nella sua nota di cordoio, ricorda l'attaccamento di Marionni alla città di Gubbio, la sua presenza ogni anno alle celebrazioni del 22 giugno, compresa l'ultima, quella del 2020, combattendo anche contro la pandemia, non lasciandosi scoraggiare dall'età e dal pericolo del virus, volendo assicurare la sua presenza a questo, per lui, immancabile appuntamento.